Hello everybody and welcome back to Joe English. Ok, ci sono delle parole in inglese che noi non pronunciamo bene, le parole che noi mangiamo. Quindi se voi sapete quali sono queste parole, diventa molto più facile capire quando noi parliamo. Di nuovo, questa non è una lezione per la pronuncia, questa è una lezione per l'ascolto. Ovviamente, se volete cercare di mettere in pratica queste cose quando parlate, anche va bene, ma è più per voi di capire come noi parliamo. Ok, iniziamo con questa parola qui. Come si pronuncia? Sì, da solo si dice to. Però, quante volte dovete dire questa parola da solo? Viene sempre collegato con altre parole. E poi la pronuncia diventa t. La O non c'è. Vediamo un esempio. Non è così. Ascolta bene. E questo non è solo quando noi parliamo velocemente. Anche più piano. I'm going to the bar. È sempre t. La cosa importante, però, è che non dovete mettere l'accento su questo t. Non è I'm going to the bar. Non è così. Dobbiamo mettere l'accento sulla parola successiva. I'm going to the bar. I'm going to the bar. Dai, ripeti, dopo me. I'm going to the bar. Perfect. Un altro esempio è questo qui. Che ore sono qui? Sono le 2 meno 10. È vero? In inglese si dice it's ten to two. Però senti la pronuncia. It's ten to two. It's ten to two. Di nuovo. To diventa t. It's ten to two. Dai, ripeti. It's ten to two. Perfect. Ok, un'altra parola che segue lo stesso concetto è questa parola qui. For. Ma di nuovo. Non si sente quasi mai for. Siccome viene collegato con altre parole, diventa f. F. O-R. Non si sente. Per esempio, in un ristorante, vuoi un tavolo per due persone. Si dice A table for two. Però senti. A table for two. A table for two. Di nuovo. Non mettiamo l'accento. L'accento viene sulla parola successiva. E for diventa f. A table for two. A table for two. Dai, dopo me. A table for two. Great. Ok, un altro esempio. I need to buy a jacket for James. Devo comprare una giacca per James. Quindi I need to buy a jacket for James. For James. Non è for James. For James. Hai notato anche tu all'inizio? I need to buy. To buy. Quindi qui la O non c'è. E qui for James o R non c'è. Quindi, dopo me. I need to buy a jacket for James. Perfect. Di nuovo, per lezione più dettagliata, io ho fatto una serie di tre live sul mio sito spiegando tutte queste cose in molto più dettaglio con esercizi. Ok? Ok, andiamo avanti. Come si pronuncia questa parola qui? Se dobbiamo pronunciarla da solo? And. And. Però, and è una parola che viene usata per collegare le parole insieme. Quindi and quasi mai si sente, solo se dobbiamo enfatizzare la parola. Quindi di solito diventa N. N. Quindi la A e la D vengono tolti. Per esempio, se vai in Inghilterra, si può comprare fish and chips. Ma nessuno dice fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. N, N, N. Non and. Fish and chips. In Inghilterra anche viene scritto così spesso. Fish and chips. Ok? Quindi questa è l'importanza della pronuncia di and. Di nuovo, questo è importante per l'ascolto perché se si sente M, M, che significa M, voi dovete capire che significa and. Ok, facciamo un altro esempio. Sono andato con Eddie e James. Quindi non è I went with Eddie and James. I went with Eddie and James. I went with Eddie and James. Eddie and James. Ok, quindi la A, la D non c'è. Quindi dopo me. I went with Eddie and James. Perfect. Ok, un'altra parola che noi mangiamo è forse questo è quello più importante perché questo ha proprio l'abilità di cambiare il significato di una frase. Quindi è importantissimo che voi sapete come noi lo pronunciamo perché così riesce a comprendere molto di più. La parola è questo qui. Come si pronuncia? Perché io penso che voi state pensando but. But. La maggior parte delle volte questa parola viene pronunciata b. La U e la T non c'è. For example. Eddie likes ice cream but James prefers chocolate. Ok? Quindi. Eddie likes ice cream but James prefers chocolate. Avete sentito? Questo but diventa b e non mettiamo neanche l'accento. L'accento viene immesso sulla parola successiva. But James. But James. Quindi. Eddie likes ice cream but James prefers chocolate. Oppure questo qui. Mi piace questo ristorante ma quello vecchio è migliore. Quindi. I like this restaurant but the old one was better. But the old one. But the old one. But the old one was better. Ok? Di nuovo. But the. But the. But the old one was better. Ok? Dopo me. I like this restaurant but the old one was better. Perfect. But è una parola così importante perché mostra un contrasto. Quindi tutto ciò che viene detto prima non è più vero. È così l'importanza di questa parola. Quindi voi dovete capirlo bene quando noi parliamo. Ok però vediamo questo esempio. I like football but I. I like football but I prefer rugby. I like football but I prefer rugby. Adesso but I. C'è un suono tra queste due parole? But I. But I. C'è la D che noi mettiamo in mezzo. Spesso quando but viene seguito da un vocale noi diciamo bird eye. Mettiamo la D per collegarli insieme più facilmente. Quindi dopo me. I like football but I prefer rugby. Perfect. Di nuovo non dobbiamo mettere l'accento sul but. Viene sulla parola successiva. Ok vediamo un'altra parola. Questa è l'ultima per oggi. È questa parola qui. Come si pronuncia? Non è spesso than. Di solito viene pronunciato than. Than. Quindi là non c'è. Vediamo un esempio. I'm taller than you. Si dice I'm taller than you. I'm taller than you. Than you. Non è I'm taller than you. I'm taller than you. Dai ripetiamo dopo me. I'm taller than you. Good. Questo è importante perché noi usiamo than spesso con i comparativi. Quindi è molto importante si sa come noi pronunciamo questo than. Ok vediamo un altro esempio. Fa più freddo in Inghilterra che in Italia. Quindi noi possiamo dire It's colder in England than in Italy. Oppure than Italy. In non lo dobbiamo dire questa volta. Quindi It's colder in England than in Italy. Oppure It's colder in England than Italy. Than Italy. È sempre than. Ovviamente però devo dire che in inglese queste parole che ho appena spiegato tutti questi se noi vogliamo mettere enfasi su queste parole ovviamente possiamo pronunciarli per bene. è solo che spesso la maggior parte delle volte non dobbiamo mettere enfasi ed è così la pronuncia è come ho spiegato. Ok la prossima volta che voi ascoltate voi dovete cercare di trovare esempi di questa pronuncia. È molto importante. E poi se ci sono altre parole che noi mangiamo fatemi sapere nei commenti perché ci sono altre. Thank you very much. I'll see you soon.